Bentornati e bentrovati Siamo in un video speciale di Ryze Che dovrò registrare di corsa E editare di corsa E renderizzare di corsa E postare di corsa Perché domani uscirà tutta sta roba Non per noi ovviamente Allora è stata Riasciata l'ultima live L'ultima presentazione dell'update L'ultimo update che abbiamo Quindi il gioco Finito Ce sarà più niente Al momento Prima di partire dal trucco Partiamo velocemente Alle cose che hanno presentato Hanno presentato l'ultimo mostro del gioco Che non era l'ultimo mostro del gioco A quanto pare Ci è stato detto Però Ripeto lo sottolineo più avanti Hanno presentato Abbiamo ovviamente La classica cosa che succede In ogni monster hunter Declado maestro A livello alto Eccetera eccetera Dove abbiamo Missioni più difficili Evento più difficili Missioni con event Che danno l'armatura Qualche tipo di armatura Abbiamo visto tipo l'armatura Quella da pompato Che c'era anche in world Dove c'è tutto muscoloso E sei in Costume da bagno Non ne ho idea Però vabbè Quello quando sei tutto muscoloso Palestrato Si chiamavano Un'armatura particolare Tipo Mi è stata una cosa eroica Non lo so Un po' particolare Abbiamo avuto Ci sono varie missioni principali Ma Cosa è stato presentato Alla fine Hanno fatto l'ennesima volta L'ennesima cosa De Dieci minuti Di attesa Del premiere 5 minuti Nemmeno Di che ci sta Nell'update E altri 30 minuti E altri 20 minuti A parlare De niente Praticamente Mi dispiace Ma questi non sono capaci Se vede che è tutto finto Mi dispiace dirlo Ma è tutto finto Se vede che è finto Allora parliamo del mostro Allora Cosa avremo Nell'ultimo update Il Semplice variante Cioè Semplice No Però una variante Avremo il Malzeno Primordiale Presumo si chiamerà Primordial Malzeno Which Che Devo dire Mi piace Forse un po' di più Rispetto al Malzeno classico Come Come è rappresentato È molto semplice È praticamente Un Malzeno Senza Icurio Ho notato subito Questa differenza Perché non possiate Assolutamente Nessun traccia A meno di Il modello Che sta fatto Per te vedere Non possiate Assolutamente Nessuna traccia Di Corruzione Di essi O qualcosa Di rosso Praticamente Di tracce rosse Praticamente Non c'è più Il bavero Come si chiama La La criniera Verso sul collo Non c'è più Non sembrerebbe Neanche utilizzare Più di tanti Curio Come combattimento Quindi diciamo Che è un Malzeno Che è Diventato Stemium Potreste definirlo Come se Dracula Tornasse a essere Il guerriero Che era un tempo Vlad Tepes E rinunciassi Del tutto A usare i suoi poteri O per esempio Se Dracula E c'è sta Alucard Una cosa Di genere Devo dire Mi piace di più Perché ad esempio Ha molte linee Molto più marcate Sembra Delle placche Della sua Pelle Sembrano Molto più Corazzate Non c'ha Tutta Cripe Tutte Ste cose Rosse Non sembra Che è Dipendente Dai Curio Non gli serve Avere Tutta quella Potenza Che c'aveva Con i Curio Quindi diciamo Che è una variante Un po' come simile Alda Ora che cambia pelle Quindi temporaneamente Diventa vulnerabile Al coso Al gormagala Che lo fa Anche lui Per liberarsi Temporaneamente Dalla Infezione Bra Dall'infezione Cos'altro Il Gigante Dove le sue spine Sono cresciute Fuori controllo Una cosa del genere Sì Diciamo che È questa Game C'ha questa Game Che non ha più I cure Quindi praticamente È come Disintossicato No Se ne c'è Da qui a per culo Interessante Il concept Voglio Mi piacerà Vedere Lanto Lanto Non si toccherà Aspetta un botto Domani Che è 8 Uscirà Su Switch A quanto pare Uscirà Su Switch E Steam Credo Non sono sicuro Quale dei due Se è anche Steam Però uscirà Su Switch E Steam A noi Ci usciranno Il quarto update Quinto update E quest'update Usciranno Il 24 Di agosto Vabbè Cosa buona Perché tanto Io devo far Ma Beh Manca Devo arrivare Per affrontare Questo mostro Bisogna essere Al Grado maestro 10 Non so se Intendono Grado maestro 10 Oppure devi arrivare Alle missioni Grado maestro 10 Può essere Che è quello Il punto Vabbè Ovviamente S'hanno aggiunto Anche varie cose Hanno aggiunto Nuovi gioielli Nuove potenziamenti Anomalie Per le armature Con nuovi slot E vabbè Ovviamente La nuova armatura Nuova armi Del malzeno Primo diario Quindi vedremo Come andrà Come sarà Sto mostro Alla fine della fiera Ma ci toccherà Aspetta un botto Per noi a quanto pare Non so perché Ripeto Io non capisco Sta stronzata Fa tutto posticipato Solo perché Probabilmente la nintendo È andata a bussare Da dopo world È andata a bussare Ha detto Mortacci 2 Hai venduto un botto Non hai messo Sulla nostra console E noi ne abbiamo venduto Più di tanto Quindi Mortacci 2 Adesso Adesso il prossimo I mostreranti Li devi far uscire Prima per switch Perché altrimenti Non ci prendiamo i soldi Non lo so Secondo me Io la vedo così Che letteralmente La nintendo C'è entrata A bussare sotto casa Gli ha detto Non ti ha dato mai più A venderli prima Su un'altra console Che è su delle nostre Che noi abbiamo le priorità Abbiamo priorità Su questo gioco Quando a me Non mi sembra mai Non mi sembra che sia giusta Una cosa del genere Fai uscire tutto insieme Punto Ce l'hai il tempo Sta cosa che devi Mette fretta Hanno detto anche Che presenteranno Ovviamente qualcosa Durante l'anno prossimo Sul vent'anni Del titolo Dei Dei Monster Hunter Dalla serie di Monster Hunter Quindi si presumono I nuovi giochi Sunbreak Farà un anno Il 30 giugno Quindi vabbè E niente Raga Tutto qui Questa è l'ultima cosa Che ci è stata mostrata Questa è l'ultima cosa Che ci sarà E ci tocca a noi Ci tocca aspettare Tanto per cambiare Già La mia faccia dice tutto Magari c'avessi i capelli così In realtà ce l'ho un po' lunghi Ma magari c'avessi così No starei C'è un po' legal E niente Poi vabbè Hanno parlato Due creatori Più Uno di quello di Rice Quello di Sunbreak Più il direttore Dei Monster Hunter Hanno parlato di queste cose Tipo ad esempio Questi disegni qua Che veramente Non notavi A meno che non ti mettevi A cercare i collocchi Che stanno pure qua Per esempio Hanno parlato Dei quali mostri Quali NPC Sono i loro preferiti Quali sono i loro mostri preferiti Cioè veramente Le solite cose Di cui fanno sempre Come se Cioè relativamente Posso capire Che forse provano Un po' di affetto Verso i loro giochi Lo posso capire Però veramente Ragà Io Magari perché Sembrano stoici loro A me Mi è sembrato Un falso Ma veramente Ragà Io non ho idea Non lo so Forse Forse so io Diffidente De natura Non lo so E niente Quindi questo era Tutto quello Che c'è stato Tutto quello Che ci sarà E Sunbreak è finito Praticamente Ragà Quindi godete Quello che ci sta Adesso Perché Vabbè Io tanto devo farmare Quindi sto a posto Non Non mi sembra Un problema Sto ancora decidendo Se finire di farmare La mia armatura Oppure no Qua sto a Quante sono queste Sette Eh No Sono sei Quindi sto ancora A rango sei Quindi la voglia Che ha finito Le anomalie Ne sto a fare Ogni tanto Ma non è che Mi prenda più di tanto Di falle Anche perché La fine della fiera Le lì con pezze Sono Meno di quante Tu ne guadagni Tanto che ho scoperto St'armatura Per gatto e cane Che Del Del Shikigami Che mica la sapevo Stupenda Rivedere E niente Ci vediamo per sempre ragazzi Vi ricordo che il carico video Commentate sotto Fatemi se lo La cosa su questo L'ultimo date Monster Hunter Sunbreak Niente Bye bye Cucciolotto Cucciolotto